A Pesaro questo weekend si balla, con due eventi differenti nello stile ma uguali nel divertimento. Sabato 31 agosto infatti alla palla si terrà la seconda edizione di Pesaro Country Festival, mentre l'1 settembre l'appuntamento è all'Hotel Flaminio con la quarta edizione del Festival Nazionale Balli di Gruppo. Previsti in entrambi le occasioni, tantissimi ballerini e ballerine di fama nazionale non solo. Questa settimana avremo un fine settimana particolarmente vivace, ci sarà sabato il secondo Festival Country e domenica ci sarà il quarto Festival Nazionale dei Balli di Gruppo. Sono due iniziative che portano avanti Dance Mania, scuola di ballo di Pesaro. Domenica con i Balli di Gruppo verranno persone da tutta Italia e quello delle Balli Country invece sarà un concorso interregionale. Speriamo che abbia un grande successo di pubblico e prevista comunque anche tra i partecipanti la presenza di centinaia di persone. Sarà una seconda edizione più ricca di quella dell'anno scorso, dove avremo un coreografo di fama internazionale che farà uno stage dalle 17 fino verso le 19.30 e nell'ora prima, quindi dalle 16 alle 17, addirittura avremo due DJ set. Uno è dell'Umbria, della West Umbria e il nostro che collabora con noi, con la Dance Mania, che sono i Black Devils e sono due gruppi country. Comunque anche lì verranno persone da tutta Italia sicuramente perché si è sparsa la voce dopo l'anno scorso e poi alla sera ci sarà comunque Cadilla Crunch, che è un gruppo che suona dal vivo, musica country. Invece la quarta edizione, che sarebbe stata la sesta se il Covid non ci fosse fermato, del Festival Nazionale dei Balli di Gruppo, abbiamo tantissime scuole che vengono dal Piemonte alla Sicilia. Quindi ricopriamo tutta l'Italia, quindi si verranno qua da noi. Faremo anche qui uno stage con due coreografi di fama nazionale, che sono Luis Capasso e Andrea Stella e che dalle 16 fino alle 17 faranno lo stage, con due balli nuovi che poi verranno pubblicizzati su YouTube, tutti sui canali social e la sera tutte le scuole che sono presenti si esibiranno in vari balli di gruppo. Insomma siamo tantissimi e quindi ci fa molto piacere perché da un anno all'altro si prenotano, tra virgolette, dicendo io ci sono quest'altro anno, contami ci sono. Quindi a noi fa molto piacere aver riscontrato questa festa che piace tantissimo, aggrega, si divertono, ballano ed è molto molto bello, c'è un bello spirito di gruppo.